Vincenzo Agostino si è spento a 87 anni senza aver mai saputo la verità che ha cercato per 35 anni sulla fine del figlio della nuora. Dalle 12, camera ardente, alla caserma Lungaro a Palermo per il padre dell'agente Nino, ucciso da Cosa Nostra, assieme alla moglie, incinta Ida Castellucci, il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini. I funerali si terranno domani in cattedrale. A darne notizia la figlia di Vincenzo Agostino, Flora, che con un post su Facebook ha voluto ringraziare anche tutte le persone che in questo momento si stanno stringendo attorno alla sua famiglia e ha voluto sottolineare, vi chiediamo, di non portare fiori ma di devolvere qualcosa alle associazioni. Era conosciuto per il suo impegno e per la lunga barba bianca. L'avrebbe tagliata solo dopo che fosse stata fatta verità sui mandanti del duplice omicidio e sul depistaggio delle indagini. Sua moglie, Augusta Schiera, era morta nel 2019 ma Vincenzo Agostino ha continuato senza sosta la sua battaglia fino all'ultimo. Il 6 ottobre di un anno fa, dopo che la Corte d'Appello confermò l'ergastolo per il boss di Resultana, Nino Madonia, disse sono soddisfatto perché hanno condannato il macellaio di mio figlio e di mia nuora, soddisfatto anche per mia moglie, desideravo tanto che ci fosse anche lei accanto a me. Ora toglierò la scritta sulla sua lapide, morta in attesa di verità e giustizia. La sua morte è stata accolta con commozione dal mondo delle istituzioni e della politica, ad iniziare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha definito Agostino un protagonista di un coraggioso impegno contro la mafia. Agostino ha passato la sua vita incontrando gli studenti e raccontando la storia di suo figlio assassinato a Villa Grazia di Carini nella casa di villeggiatura dei genitori. Qualcuno in quelle stesse ore portò via dall'abitazione di Nino Agostino in via Altofonte degli appunti che si trovavano nell'armadio e citando proprio questo episodio, Vincenzo Agostino ripeteva agli studenti la verità della morte di Nino e Ida è dentro lo Stato.